GF VIP7, Donna Maria crede che Nikita sia avvicinata ad Antonella per strategia. Edoardo Donna Maria nel corso di una chiacchierata con alcuni suoi compagni d'avventura ha sollevato dei dubbi sul percorso di Nikita Pelizzona al grande fratello VIP7. Nel dettaglio, il giovane volto di forum è convinto che la modella triestina si sia avvicinata ad Antonella Fiordelisi per strategia. A fare ecco alle dichiarazioni di Edoardo, ci ha pensato anche Nicolin Corvaia. La concorrente crede che Antonella in alcuni gesti sia stata influenzata dall'amicizia amata con Nikita Pelizzon, il riferimento è al fatto che Fiordelisi abbia iniziato ad appuntare su dei fogli tutto ciò che accade all'interno della casa di Cinecittà. La casa di Cinecittà risulta essere divisa in due fazioni, da un lato ci sono Luca Onestini, Oriana Marzoli, Giaele Dedona, Alberto De Pisis, Nicole Murgia, Nicolin Corvaia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria mentre dall'altro ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzona e il resto dei concorrenti. I litigi dei giorni scorsi hanno portato i Donnalisi ad un allontanamento repentino. Domenica 29 gennaio, Edoardo ha confidato ai suoi amici che Antonella potrebbe essere stata influenzata da Nikita nell'atteggiamento adottato nell'ultimo periodo. Nel dettaglio, il giovane volto di forum ha riportato una presunta conversazione avuta tra Pelizzone e Fiordelisi, Nikita ha detto ad Antonella, insieme qui siamo fortissime. L'episodio sarebbe accaduto quando ancora Donnamaria ed Antonella erano in sintonia. Tanto che la influencer salernitana avrebbe chiesto al suo partner cosa volessero significare le dichiarazioni della modella triestina. Il giovane volto di forum è convinto che Nikita si sia avvicinata a Fiordelisi solamente per strategia, capito come stanno le cose. Dopo aver ascoltato Edoardo, Nicolin Corvaia ha confidato di aver notato un comportamento strano di Nikita Pelizzone. Nello specifico, la influencer ha rivelato che durante l'ultima puntata del Grande fratello VIP7 la modella triestina si sarebbe appuntata a tutto quello che accadeva nella diretta sulla scatola dei Mikado uno dei tanti prodotti sponsor. In principio, la concorrente non aveva capito di cosa si trattasse, erano appunti e osservazioni su quello che succedeva. Secondo il punto di vista di Incorvaia, Antonella potrebbe avere iniziato a prendere appunti su tutto quello che accade all'interno della casa di Cinecittà proprio su consiglio di Pelizzone, questa cosa di scrivere la trasferita ad Antonella. Per Mikona, le due concorrenti potrebbero scriversi degli appunti, in modo da essere preparate nel corso della diretta delle reality show. Mafia, parasiti, dragonu, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, schwa, bow, graso, nimeneal, tutel, vede, sau carbo, trei, so vò mănânci versi cu versi, card intense, trei, so crezi, crezi, ce vrei, so crezi, io vrei, so crezi, io vrei, so crezi, io vò respect pe toți, dar focusez, pe nivel următor, dai zici că mă bat cu bossu, la câte un râp sunt, cum, so vă iau cu frumosu, metafore, hiperbole, le obțim prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.